Ragazzi, benvenuti su Minecraft totalmente generato dall'intelligenza artificiale. Che vuol dire? Che adesso vedrete. Clicco qua, abbiamo noi 5 scenari, ma non è importante perché io adesso entro all'interno del mod. Chi è? Chi è? Mediodas, grazie per i 44. Ecco qui ragazzi, i 5 scenari che possiamo scegliere. Prendiamo il villager outpost, tanto non è importante. Adesso capirete, eh? Clicchiamo. Zoomiamo. Quello che state vedendo ragazzi è Minecraft, generato totalmente dall'intelligenza artificiale. Se io muovo in mouse, vedete? Cioè è Minecraft, non Minecraft. Io posso muovermi, posso fare la qualsiasi cosa, la qualità è bassa, perché ogni frame è generato dall'intelligenza artificiale. E la cosa bella è questa, guardate, c'era prima un villaggio, ora non c'è più. Cioè, vi rendete conto? Tipo, questa zona non ci piace, guardiamo in alto, ci abbassiamo, ed è cambiata. Perché ogni frame successivo dipende da quello precedente. Quindi, che vuol dire? Che se tipo, guarda, guarda. Facciamo che tipo piazzo la fence. Minchia, proprio qua che non si... è sparita, perché non si vede. Ma se per i bitarelli, William. Intanto ho visto a destra, piccolino, che ho sbloccato gli advancement, praticamente. No. No, 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 no. Ho visto che l'ha fatto, ma non ho visto il video. E... vedete? C'è tipo tutto... Ora è tutto un campo di... di crop, di patate. Cioè, è una cosa senza senso, ragazzi. È incredibile. Cioè, tipo, la stazione non ci piace. Bam. È tutto generato dell'intelligenza artificiale. Cioè, tipo, adesso ti piazzo... la staccionata. Faccio così. Guarda, ha messo un cancelletto. Sì, adesso vado... a togliere la staccionata leggermente, ma mi sposto. Lui sta generando tutto quanto con l'IA. Guarda. Regà, siamo dentro un recinto. Cioè, è una roba incredibile. È senza senso. Cioè, c'è pure l'inventario. Cioè, io posso... sto giocando a Minecraft, ma non è in Minecraft. È tutto generato dall'IA. So che l'ho detto 70 volte. Ma, per farvi capire quanto questa roba è devastante. Cioè, tipo, ora non so, là sotto c'è una struttura. Si vede male, ma noi ci avviciniamo e vediamo un attimo che succede. Anche perché, aspetta, è un inventario. Tipo, guardate, c'ho qualcosa che... Cos'è? Non so cosa sia. Questi qui sono tipo blocchi. E... spariti. Sembra tipo quando fai i sogni e non ti ricordi. Ma, raga, c'era la... Ma la casetta è sparita. What the fuck? Ma che cos'è? Ma è tipo un al... È tipo un albero volante. Aho? Raga, non ha senso. Guarda, 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 guarda! E ti è dato più grande! È bello che puoi fare endgame e continua. Ogni sessione... Ogni sessione dura 5 minuti. Tra 5 minuti dobbiamo rigirare di nuovo, ecco. Ed è quello che andremo a fare. Cioè, guarda, tipo, io adesso... Se, tipo... Guarda, ce l'ha staccionata. Io posso saltare sopra, ma se continuo a buildarmi sui piedi... Guarda, guarda! Ok, ora io scendo e spuono da questa cosa. E la sottra di prima non c'è più! Non c'è più! Il bello è che posso anche spaccare i blocchi. Cioè, io posso... Guardate. Spacco. Lì, sa che sotto c'è la dirt. E infatti c'è la dirt. Ma se scendo, guardate. Io ora scendo, scendo, scendo sto scendendo. Ma se alzo la visuale... Mi fa male il cervello! È senza senso! Ah, posso scaricarmi... Oh, raga, mi scarico il gameplay. Pulito. Vai, facciamo play again. Allora... Scegliete uno scenario. Scegliete voi. Foresta, costa, deserto o montagna. La costa! Vai! E vediamo se adesso è il nostro turno. Vediamo. Sono chiuso della gravità. Mo' vediamo, mo' vediamo, raga. Ma è bellissima. Vai! Eccoci qua. Oh! Chi è? Entità, grazie mille. Viva i Pokémon pazzi e prorompenti. Tutti fatti. Va bene, va bene, Entity. Va benissimo, va bene. Quanto come ci sono tanti. Sono più di uno. Suka. Ragazzi... Ma non mi sembra tanto una costa questa, eh? Ah... Ma è un campo di grano gigantesco. Ma sono blocchi di fungo. Ma questo è un fiorellino? Ah, eccolo. È corsadissima come roba. Cioè... Cioè... Allora, io posso spaccare. Vedete, posso giocare a tutti gli effetti. Posso spaccare questo Guarda Il problema è che se faccio così E torno all'indietro Ah no non l'ha generato Oh cavolo Allora aspetta aspetta Ma posso usare la crafting table? No la crafting Si è mangiata la crafting table E' una mucca Sono mucche Che si stanno sciogliendo E sono diventati Blocchi Oh Ragazzi ma che cazzo è Sbaglio sto salendo Sbaglio sto salendo Ma che cavolo Bro Aspetta aspetta Mi stai dicendo che Se io faccio Come torcio E' un attimo Nudo telefono Regà Si è generato una caverna Ragazzi si è generato una caverna Fatemi mangiare Posso mangiare Posso mangiare La situazione si sta facendo Abbastanza strana Siamo finito Nella giungla Ah Ah e la caverna È appena sparita No no Io voglio fare la prova A buildare Ma non è una ceste Ok La ceste è sparita Sono di composter Ok 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 Bro Ma di sopra cosa Sto camminando Cioè io posso Tirare i tri Sto scendendo Che blocco diventa Che cos'è Hola capo Come stai Ragazzi E' diventato Lo shroom light A miele A Sandstone Guardi in basso Guardiamo in basso Guardi in alto Regà Siamo nel deserto Regà Boh Io voglio fare una Sono blocchi d'oro Ok Se faccio così Ok Faccio così Guardate Bom Mondo d'oro Mondo di piscio E' finita E' finita Regà mi scarico il gameplay Mamma ma io voglio giocare A minecraft Ma figliolo A casa abbiamo Minecraft Minecraft Vai raga Scegliete il prossimo Livello Intanto ragazzoli Grazie mille Per le sub Datemi un secondo Che mo Ve le riprendo Vi ringrazio Simone Panebianco Grazie per i 51 Jack Grazie per i due anni Grazie mille Mi fa piacere Che tu hai sfruttato Il messaggio Dei tuoi due anni Di abbonamento A questo canale Twitch Per scrivere Mi 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 E me clown E me pelato Grazie mille Bene Deserto Vai Eccoci Allora E' il deserto eh Ma Allora Il fatto cos'è Che secondo me L'IA sa come funziona Minecraft Perché Non c'è di base Il gioco Ok Tutto il funzionamento Tutto quello che si vede E' dentro Al via L'IA sa come è fatto Il gioco Quindi Se noi Facciamo capire Che c'è una determinata Cosa L'IA dovrebbe Portarci lì Capito Dite che se Ce la facciamo Riusciamo a finire Tipo In un dungeon Nella Stronghold Cosa c'è qui Tutto legno Una scala Eh Oh E' un villaggio E' un villaggio Del deserto Guarda Incredibile come Ogni frame Si è generato Proprio Con l'intelligenza Artificiale Quindi comunque Molto veloce La qualità E' Pessima Ma è perché Tutto generato In tempo reale Ragazzi Se io faccio così Col mouse Vedete Oh cavolo Che cosa Appena creato Ma È una piramide Cos'è quella cosa Oh Regà Io che ho giocato Tipo a super Liminal Tutti questi giochi Particolari Con Illusioni ottiche Questo le batte Le batte Perché mi piazza Le fe Ma basta Piazzarmi le fence Oh Cristo Cos'è Sembra una casa Dentro una caverna Oh Regà Tutto buio Ma C'è guarda Mi abbasso Boom Un ponte What Vado Mi tuffo Mi tuffo E non E' sparito il mare Mi sa E' una porta Aspetta Aspetta No voglio farlo Ok Faccio finta Che sia una porta Ragazzi Bro No no Regà Mamma donna Ma sono fido Che cazzo è Vediamo il mare Dai Ma regà Il mare Sono curiosissimo E' un trip Devastante Ma dite che lo raggiungiamo No sta sparendo Ho visto Una montagna Si è generata Come se Avessimo caricato Il chunk Il breve Abbiamo pure Le challenge No Niente Scarico anche Questo Regà Vogliamo provare La montagna Questa qui Voglio provare Proprio La montagna Perché Se riusciamo A beccare I mushroom Voglio vedere Se ci porta Nella mushroom Island Ma è Ma non c'è La Ma no Regà What the fuck Questo mi sa che è turbo rotto Dovamo fini nella mushroom Nella Nella foresta Ma invece no Ma quant'è alta St'erba Regà Ma non penso Che esista L'erba Così alta Su minecraft Oddio forse c'è una C'è una foresta Sì 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 Vedo Vedo tanti alberi Eccomi Eccomi Arrivo Allora Non dobbiamo Perderla di vista Ok Allora Sentiamo che sto dentro La foresta Mi sa che stiamo Friendo chissà dove Regà Guarda Beh Siamo sempre dentro Una foresta Non più Cos'è questa cosa Che vola Andiamo Mannaggia che non ho Blocchi per buildare Non devo perdere La di vista Ah ma è ok Bro Ma ecco Io posso Non posso raccoglierlo No Secondo me Gli ha appena Perso L'informazione Che c'è Di drop A terra Quando È finito Fuori Della visuale Cioè Io spacco Questo E ce l'ho In visuale C'è il droppetto Non me l'ha preso Oh Che cosa è questa Ragazzi Sta divinando Sempre più È diventata Lana verde Aspetta Aspetta Le inquadro per bene Non le inquadro più Ragazzi Siamo finiti Non so dove Adesso Cos'è questo Alone giallognolo Ma chi è sto sch... Oddio È Regà si sta Scompattando Minecraft È diventato Tutto giallo Una miniatura Una miniatura Di youtube Va dall'indietro Ma raga Quando minchia sono Ma io posso Tipo Morire Ma guarda Ma cos'è sta cosa Si è trasformato in sabbia Ok Noi siamo sopra Le nuvole Ho due cuori Forse Siamo in cielo Siamo su una vetta Di una montagna Sto cadendo Ma sto cadendo Bro Bro Mi sono... È un trip È un trip Continuo Aspetta C'è un buco Mi butto Però vedete Non prendo danno Aspetta È un mob Sono mob Non... Non... Allora raga Per un attimo Ho visto un Ibrarian È andato pure questo Bello Chat Continuiamo? Dopo poi ci aspetta Minecraft RTS Dobbiamo provare A buildare qualcosa Durano 5 minuti l'uno Eccoci Nooo Pissi riflessi di page Detonato Raga È esploso Mi è giocato troppo Mi sa Ok Ragazzi Mi sa che ci ha abbandonato L'abbiamo distrutto Andiamo a provare a ricaricare C'è capito Praticamente Quello che proprio dice questa schermata È che noi stiamo per entrare Nel primo Modello di videogioco Totalmente Generato Dall'intelligenza artificiale Perché è stata Ehm Come si dice Ehm 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 Trained Perché ce l'ho sulla punta Dalla lingua Istruita È stata totalmente Istruita Da milioni Di ore Di gameplay Di Minecraft C'è È una cosa Fuori di testa Mi diamo un attimo Se riparte Che cosa Lo stanno provando Tantissimi Sono Ottantatresimo In coda Ok È il mio turno Vediamo Ci siamo Allora Io vorrei piazzare Perché ho piazzato Una cesta La apro Regà C'è roba Non capisco cosa Ma c'è roba Mi sa che l'ho rotto Vedo tipo due cursori Questo è ferro Ehm Ma Cacca troia Ciao Aspi Tutto bene Tu? Mamma mia Per uscire Come faccio Però Ok Allora La cesta è diventata Una doppia cesta E qui c'è un'altra cesta Cos'è? È diamante Regà Stavo per prendere Un diamante Get a Get a Diamond La Very Hard Eh Regà Difficilissimo C'è Vi faccio notare Adesso ragazzi Una cosa Dentro questa cesta C'è forse Roba da mangiare Questo perché C'è accanto Una fornace E Aspetta Forse Tendiamo nel nether No Questa è Onei No Si sta sminchiando Tutta la fornace È diventata Un inventario 4x3 No Ho una spagna in diamante Cioè Sono degli hopper Aspetta Aspetta Mondo di Onei Wow Mondo di Onei Wow Ma Raga è una roba Rottissima C'è È incredibile È tutto fatto Un'intelligenza Artificiale Ma Full boxato Cavolo Questa è una trapdoor Cos'è sto coso Che cos'è Sembra un pollo Un drop Mi fa male il cervello Mi fa male il cervello Ma questa tecnologia È devastante Voi pensate Letteralmente A un gioco Totalmente Fatto così Tu dai un prompt Dici Voglio un gioco Dove Dovido Sopravvivere In un ambiente Medievale Mamma Ok È tutto diventato Legno Adesso Aspetta Oh no Regà Ho intravisto Un portato Del nether Mi sa Minchia se riusciamo A entrare nel nether Servirebbe qualcosa Di viola Possiamo provare A beccare Un punto Dove c'è È fuoco È lava Posso morirci? Dai Lo sto raggiungendo È lava Ok Lava Non perdiamo la Ragazzi ci portano Il nether Impazzisco Oh Qua si è creato Un bioma Oh Quella è netherrack No 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 È finito il tempo Ce la stavamo per fare Abbiamo l'obiettivo Finire nel nether Minchia quasi Clacciata Veramente Andiamo qua In mountain Mountain Middle Che abbiamo Tanto rosso È bellissimo Raga È bellissimo Ma l'abbiamo fatto il gole Ragazzi Per lo spoiler Della vanilla L'abbiamo fatto Raga ma anche lo 3 sub E c'è lo spoiler Dai Ci risiamo Sì ok ma Dove beccare qualcosa di rosso Ma ecco io posso fare questo Aspettate Bam Dobbiamo trovare in focus qualcosa di rosso Avevo l'intervista mi sa una fiammella Niente Oh No È detonato C'era un fiorellino rosso Aspetta Forse sai che questo qui È il bioma dove spawnano i fiorellini rossi Eh Giriamoci Piano piano Ho visto un fiorellino giallo Ho visto un fiorellino giallo Mannaggia la troia Era un gatto Per un attimo Quello lì Eh Bro 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 Fermi No No Era l'handstone Regà Era l'handstone Minchia se finivamo nell'hand Ma si può finire tipo nell'hand Abbiamo tre minuti No lo prende come sabbia È perché naturalmente se è stata trainata dai gameplay Ci stanno sicuramente meno gameplay a riguardo dell'hand Rispetto a uno che gira per il deserto Quindi potenzialmente anche a livello statistico Forse l'IA Ti porta sempre in più in un contesto Dell'overworld Perché la cosa più vista Oddio delle porte le apro Lo sto aprendo pixel Sono diventate trapdoor Che posso aprire? Oh Che cos'è? No vabbè Siamo nella mesa Non siamo più nella mesa ragazzi Come non detto La mesa si è trasformata in deserto Minchia abbiamo due minuti Basta L'attento Cielo Giù Pecora Dice del rosso Ok Ora ti guardo questo No 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 È sparito Ma se mi butto nell'acqua Bom Che cazzo è tutto allagato? Sono sott'acqua Sono sott'acqua Guarda Guarda Regà sto soffocando No Sono fuori dell'acqua Ma Ti è spuntato questo? Aspetta Lo guardo Faccio così Pensa che è lava Pensa che è lava È lava È lava Quella eh Niente abbiamo 30 secondi Mi sa che andare nel nether è quasi impossibile Tutto bene Tu come stai? Però chat C'è da 1 a 10 Ma quanto è figa sta cosa? Ma quanto è bella? Cioè è fuori di testa Vabbè Ormai il tempo è passato Comunque è finito C'è Non No sense Vediamo se nel deserto Troviamo una pozza di lava Perché male? Che succede? Irgi Ok Grande deserto C'è un cactus Non lo vorrei perdere di vista Se vado contro il cactus Che succede? Ok Sa perfettamente che è un cactus Guardate È spuntata una montagna No bro Di nuovo no No Di nuovo no Che sta succedendo? Dove mi trovo? È tipo tutto un bioma Fatto di diorite Gravel Cioè beccare la pozza di lava È difficilissimo Serve di trovare qualcosa Forse intendendo All'arancione All'arancione All'gialla Aspetta Buonasera Eme Accento circonflesso Accento circonflesso Ieri sera Son tornato da Luca Comics Ed ora si riprende la routine Solo con qualche figure Manga e peluche In più occhiolino Ma mi fa piacere Dav Regà Sto cercando di buttarmi In quest'acqua Ma non ci arrivo mai No vabbè assurdo Entra nell'acqua Siccome c'è la transizione Bam Esco Tutto acqua Ma ecco C'è la fisica Io adesso sto spaccando il blocco L'acqua Non c'è la fisica Ah è perché Ma cambiano la prospettiva Ma tu sei folle Tu sei pazzo Oh ghiaccio Eccoci Quanto tempo Ciao Grotus Come stai? Regà Siamo in cima al mondo Siamo in cielo Paradiso Non sto capendo una minchia Allora quando è così Ho capito una cosa Sì Sì Ma che cazzo è? Ma che è? Ma dove siamo finiti? Perché tutto sbiancato così? Oh Ah beh basta Cielo Resettato Incredibile Cielo Resettato Cielo Resettato Cielo A un uvole Resettato Cielo PEM Ancora cielo PEM Cielo PEM Allora Lei che c'è dell'inventario Aspetta Aspetta So come Fotterla forse Il problema è che È il cursore Che Ma tipo Immaginate se uno riesce Tramite i pixel Vanno a puttare tutto Trovare un Command block Tu puoi aprirlo Perché sa sicuramente Come si apre un Command block No la chat non c'è Item Move Esc Drop No Sì ma diventerà una chest Eh può essere Sono entro una casa No ragazzi È la classica casetta Del minecraft player Guarda 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 Aspetta Botola La apro C'è un drop Dentro Non c'è più E stiamo arrivando Il deserto Oh il deserto è la cosa Che Genera di più Finito Quindi ci facciamo Un altro mondo E poi andiamo su Andiamo a fare Minecraft RTS Di mezzo del training Hanno usato I command block E No Lì a Doveva essere Doveva aver visto Tutti i video Di minecraft Capito Quindi Ma banalmente Dovrebbe conoscere Anche roba Mondata Capito Certo È difficilissimo Ottenerla Perché Ne ha visti Talmente pochi Che non Ho detto Che uno L'abbia preso E due Che riesci A Daverla Ecco Sono diventate fans Le mie cose Non capisco Una torcia Oh Aspetta C'ho C'ho Un'idea No Non perde La torcia Cosa è Successo Aspetta Aspetta Yes Fuoco Lava Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ora Se io vado Verso L'alto No No raga Mi sa che la lava È appena diventata Non mi ho perso Non capisco Un cazzo Madonna La torcia È stata Perché Della torcia Passa dire Il fuoco Del fuoco E la lava Questa cosa È molto interessante Oh Altra torcia No Detonata Possiamo provare a fissare la sabbia Da si diventa handstone Certo Oh 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 C'è roba rossa Non perdiamola Non perdiamola Non so cosa sia tutta sta macchia bianca Non sa cosa generare Capito Guarda Guarda Non sa cosa No raga Porca Troia Ha generato la pioggia È pioggia Bro No 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 Ok la pioggia è finita Ok siamo nel deserto Vediamo se Riusci Questo è nuovo Aspetta Ok sto piazzando Grano Va bene Fammi scendere Ok campo di grano Dai che Dai che Sì dai che lo sai Dai che lo sai Dai che diventi Handstone Io posso spaccarlo Ma posso coltivarlo Tutto con le palle Di fieno Non Minchia il paradiso Degli odisi Degli orsi Dei cavalli Questo è vetro giallo Piscio Siamo nel mondo piscio Siamo riusciti a rientrare ragazzi Dentro il mondo piscio Incredibile Che cos'è Ho 50 secondi Ragazzi Ok blocchi d'oro C'era dell'handstone Allora con i blocchi d'oro Secondo me con un movimento furbo Riusciamo a trasformarli in handstone Vedi 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 Questo è Rensstone Quasi Mondo piscio Guarda 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 Ho 10 secondi Dove c'era Rensstone No c'è Che cazzo è Mancava poco così Allora Dal grano Noi dobbiamo iniziare a sminchiare il giallo In modo di diventare molto più saturo Daligniamo all'oro Con l'oro Possiamo provare ad andare con la lava Cos'è in minecraft rts Tra poco vedrete Tempo ora Facciamo l'ultimo livello E via È il mio turno Allora io la torcia Non ho più la torcia Ho il letto giallo Non ho più il letto giallo Smeraldi L'ho perso Ho una zappa Porco Allora Allora Giallo Aspetta 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 Giustiamo di prospettiva No L'ho rotto Mannaggia Ragazzi Ho appena creato un blocco Che non esiste È un cubo di trapdoor Guarda che me le apre Si è sminchiata Si è Si è obliterata su se stessa Rosso Che se lo guardo da lontano Li unisco Potrebbe pensare che È un blocco rosso Mi ci avvicino Eeeh Guarda E no Sto rosso Non possiamo perderlo Ci siamo quasi Ci siamo quasi Che cos'è Ragà Prima volta E finalmente Becchiamo il blocco rosso È il blocco fungo Nether Nether Aspetta No 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 Lava Mi ha dato l'advanzamento Del nether No è diventato Honey Honey No no È lava È lava È lava di Minecraft Alfa È lava È lava Facciamo le particelle Così si confonde No Cavolo Credibile Vediamo Aspetta che forse Prende che è fuoco Perché stava facendo L'effetto particellare No Però siamo all'oro Fighissimo comunque Raga Fighissimo Cioè letteralmente Hanno creato Un gioco Dove tu adesso Hai altri obiettivi Che quello di trovare Le cose normali Di Minecraft Aspetta C'è una mela d'oro Nell'inventario Ho lanciato qualcosa Non era una mela d'oro Questa però sa che è una carota Ho un minuto Ancora E venti Poi questo mondo Ci saluterà per sempre Se riuscissimo a beccare La handstone E fa In nether ci siamo arrivati Ho visto anche la cosa La Come si chiama La La netherrack Ok Mi ha fatto fare pure L'advancement Ok Ho tutto scritto Blocco d'oro Blocco d'oro Dimensione d'oro In cinquanta Dai diventa netherrack Dai diventa netherrack Dai che diventa netherrack No Aspetta che dico Questa qui Può essere netherrack È netherrack Dai Guarda la bec No L'abbiamo persa Digi Posto Siamo tornati nel deserto Incredibile Sembra Uno di quei video Del 2021 Dove c'erano più Transizioni Che video Minchia è vero Madonna Si sembrava Minecraft tipo Ha registrato L'ho detto netherrack Vuol dire Endstone Aspetta Oh Niente È andata È andata Si vuol dire Endstone Ho sbagliato Ragazzi Direi che per oggi Va bene con Questo Minecraft Particolare C'è Senza senso Comunque C'è Veramente Grazie Flavio Niente Regà Andiamo a fare Minecraft RTS Questa è Minecraft 69 Minchia è vero Dai Usciamo Allora Raga Minecraft RTS Vedete qua Quitto Olè Aspettate che Qunia Sandy Aspettate che Grazie.